Buongiorno a tutti, oggi ci troviamo nel centro di San Giuliano Milanese in un contesto condominiale anni 60. L'appartamento che andremo a proporvi è un bellissimo due locali completamente ristrutturato al piano primo. Entrando in questa bellissima casa troviamo un comodo e spazioso soggiorno con due pareti lineari facilmente redabili sia con lato divano e parete di W frontale, disimpegno con un'ottima cucina semiabitabile e un piccolo balconcino, un bagno completamente ristrutturato con doccia. Gli infissi sono in legno a doppio vetro, ci sono le inferiate, le porte sono in legno. L'appamentazione in parquet, l'ultima stanza, è una grande e comoda camera matrimoniale con il proprio balcone con affaccio sul lato della piazza centrale di San Giuliano Milanese. Ricapitolando ciò che abbiamo appena visionato, si tratta di un comodo e spazioso due locali nel centro di San Giuliano Milanese. Potrete visionare questa soluzione sui nostri social, pagina Instagram, canale YouTube, sul nostro sito www.immobiliare.it o nelle nostre siedi. San Giuliano Milanese, Begore Chiotto, San Donato Milanese via Monardi 23, Milano via Molino delle Armi 5. Vi aspettiamo insieme per visionarlo.